Parliamo di Claudio Amendola. Amanti del gossip, voi questo già lo sapevate, che l'attore romano qualche tempo fa ha avuto un piccolo infarto. Quello che forse non sapevate è che lo ha avuto sul set di Nero a Metà, la nuova fiction Rai che ha debuttato ieri sera su Rai 1. Ebbene, l'attore romano al settimanale di Più TV ha raccontato di essersi sentito male alla fine di una giornata di riprese. E' tornato a casa, ha accusato un malessere, una fatica nel respirare e la moglie, Francesca Neri, si è resa subito conto della situazione e lo ha portato all'ospedale. Lo hanno tenuto in osservazione tutta la notte. Il giorno dopo lui poi ha firmato per tornare a casa perché, come ha detto l'attore stesso, fortunatamente era un infarto piccolo e non c'è stato bisogno di operarmi. E' stata una settimana a casa e dopo è tornato immediatamente sul set di Nero a Metà perché le riprese erano cominciate da poco. E ha detto anche, ho fatto tutto quello che il regista Marco Pontecorvo mi ha chiesto. Non mi sono risparmiato nelle scelte d'azione, ovviamente, però mi sono ascoltato e quindi, insomma, non mi sono sforzato, non ho strafatto, come si suol dire. Claudio Amendola quindi ora sta bene, grazie anche al tempestivo intervento della moglie, Francesca Neri, che è sempre al suo fianco. Ha cambiato un po' il suo stile di vita. Ha smesso di fumare, ha detto, ha cominciato a fare in movimento, gioca a golf e fa lunghe passeggiate e chiaramente ha anche cambiato la sua alimentazione. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Voi potete continuare a ammirare e godervi lo straordinario Claudio Amendola su Rai 1 con Nero a Metà.